Dottor Renato Bruno, buongiorno, siamo anche con lei per fare questa intervista pre-elezioni di Scalea 2016 e notavamo che lei è il più giovane esponente tra le sei liste, il più giovane candidato a sindaco, come si sente in questa veste di candidato? Eh sì, sono effettivamente il più giovane tra i candidati, questo forse per Scalea può essere una novità, giovani che cominciano a mettersi in gioco e che hanno voglia di sfidare la vecchia politica, sfidarla sul loro piano ma con programmi e progetti diversi, la nostra lista ci piace perché è fatta da gente che ha voglia di partecipare, ci sono anche giovani che sono pronti a crescere per poi un domani poter migliorare questo paese. Appunto i giovani la lista, lei ha anche un altro primato in questo caso, nel senso che rappresenta un movimento a livello nazionale, un emblema nazionale, ce n'è magari anche un altro, però voi avete dei parlamentari europei presenti nel Parlamento, nel Parlamento nazionale, avete tanti comuni e quindi c'è anche questa responsabilità di portare avanti questo emblema, giusto? Eh assolutamente sì, è una grossa responsabilità anche nei confronti del Movimento 5 Stelle che ha deciso in questo caso di investire sul comune di Scalea, su di noi, questo sarà un grosso banco di prova anche per loro, per il Movimento 5 Stelle stesso che ci sta vicino e a me farebbe piacere che i cittadini cominciassero a capire che oltre noi un giorno quando saremo lì dentro ci sarà anche il Movimento 5 Stelle, quindi una rappresentazione nazionale e anche a livello europeo, quindi non è cosa da poco. Certo, vogliamo spiegare un po' a chi magari vede solo la TV, quella nazionale dove si parla poco del Movimento 5 Stelle, sostanzialmente la diversità fra voi e i cosiddetti classici partiti storici, l'essenza della diversità? Ma la diversità è proprio, tanto per cominciare, la possibilità di partecipare a una campagna elettorale prossima che è iniziata praticamente anche da parte dei giovani, è già una bella differenza e poi abbiamo già visto come sono andate le presentazioni delle liste, un percorso lineare il nostro che ha seguito delle regole ben precise, non siamo esperti della politica, magari qualcuno ha avuto facilità ad arrivare, anche se poi i risultati finali nella presentazione l'abbiamo vista con tradimenti, con cambi di casacche dell'ultimo minuto, noi abbiamo cominciato da un programma stando tra la gente e ascoltando la gente, ci siamo occupati poi successivamente di trovare chi potesse rappresentare il Movimento 5 Stelle, in questo caso è toccato a me, ma toccherà poi a chiunque vorrà proseguire questo percorso e infine è venuta fuori la lista, sono persone che si sono avvicinati ad un programma e quindi l'obiettivo è quello di portare fino in fondo il programma, questa è la cosa importante del Movimento 5 Stelle, sono i cittadini che si avvicinano, non si fa la lista contando i voti come abbiamo visto, quindi tizio mi porta 100 voti, allora lo metto in lista, magari arriva uno che mi porta 100 e uno e faccio le sostituzioni all'ultimo minuto e questo è importante perché è una forma di rispetto nei confronti dei cittadini che non devono sentirsi traditi dalla politica. Proprio il fatto di tradimenti e tutte quelle cose che si dicono, voi vi siete in effetti contraddistinti perché siete partiti come un treno con le vostre idee, con il vostro modo di fare, ormai consolidato a livello nazionale e siete arrivati ad una lista. Quanto è stata sofferta questa avventura in questi mesi? Non è stato facile, devo dire la verità, un po' perché in scalea c'è una forma di repulsione verso la politica, probabilmente gli episodi ultimi non è che hanno invogliato i cittadini a scendere in campo, però è stato comunque un lungo lavoro e abbiamo avuto la fortuna di trovare delle persone che sono valide, competenti e che ci daranno sicuramente una mano a portare a termine quella che possiamo chiamare una missione nei confronti dei cittadini di scalea. Dottore, voi siete un attimino additati da alcuni concorrenti per il fatto che avete dichiaratamente detto, esposto, che volete avvalervi di consulenze esterne, di assessorati esterni. Cosa significa e come farete? Allora, tanto per cominciare si è partita la macchina della disinformazione da parte della concorrenza, chiamiamola così. Allora, assessori esterni non vuol dire come qualcuno ha voluto far passare esteri, cioè non vengono da fuori. No, il Movimento 5 Stelle punta tanto sui cittadini di scalea e quindi vuole e cerca candidati per l'assessorato di scalea, perché ci sono tante persone valide, tanti giovani validi che hanno il diritto di partecipare e dare il loro contributo per il miglioramento di scalea. Intanto è stato già predisposto un bando pubblico che è stato messo sul sito, quindi chi vorrà potrà andarselo a leggere tranquillamente, potrà partecipare e cominciare a mandare i curriculum, quindi ci saranno poi dei colloqui in maniera tale da poter verificare veramente la validità delle persone che vogliono partecipare. Questo significa dare spazio alle persone, non l'attaccamento alle poltrone, come magari può succedere in altri casi dove le liste sono sorte proprio in funzione di una poltrona. Proprio riguardante le poltrone e gli stipendi, voi come vi regolate in questo? Abbiamo deciso intanto sicuramente il taglio degli stipendi, alcuni dei consiglieri rinunceranno al gettone di presenza, questi soldi saranno messi a disposizione dei cittadini, quindi verrà creato un apposito fondo, poi quando sarà fine dell'anno i cittadini stessi decideranno come investire questi soldi, quindi nel sociale, nell'arredo urbano, quello che sia, però la nostra amministrazione sarà improntata soprattutto sul cittadino, deve essere reso partecipe dell'attività politica. Visto che, come sappiamo tutti, c'è qualche milioncino di euro di debiti al Comune e il Movimento 5 Stelle ha tutta una sua filosofia e un modo di muoversi per quanto riguarda il recupero economico, ci dia un accenno per come si muoverà appunto la sua giunta nel caso dovesse essere lei il prossimo sindaco? Allora, sicuramente ci sarà da rivedere alcune voci di spesa, nel senso che si possono recuperare tanti soldi con piccoli investimenti, quindi abbiamo la fortuna di avere una rete forte, quindi si può prendere spunto anche da quella che è stata l'attività svolta nei comuni, ad esempio di Pomezia, che in due anni è riuscita a risanare il bilancio, anzi addirittura a chiudere quest'anno a più 15 da una situazione disastrosa che era di meno 12, quindi la forza del Movimento 5 Stelle è proprio questa rete tra i vari sindaci, tra i parlamentari, che ci dà anche una mano da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece il lavoro dei giovani, io in un'altra intervista a un suo collega capolista, ho accennato al fatto che i giovani negli ultimi anni hanno avuto una migrazione veramente esasperante, per quanto riguarda noi genitori soprattutto, loro magari vivono meglio attualmente, lei lo stesso è stato un migrante per potersi laureare, poter far crescere la sua professionalità. Per questi giovani cosa ha pensato il Movimento 5 Stelle di Scalea? Allora, è importante che a Scalea si punti sul rientro dei giovani, sulle risorse giovani, perché anch'io, come prima diceva, sono stato costretto a andare via per diversi anni, io sono partito nel 99-2000, sto rientrando adesso perché il lavoro mi ha concesso di avvicinarmi a Scalea, però per tanto tempo sono stato fuori per motivi di studio e certo l'esperienza non è stata positiva, perché racconto un episodio, mi sono trovato a dover fare il tirocinio per l'università, quindi io mi sono laureato in economia e gestione dei servizi turistici, puntavo, dico provo a vedere anche se all'interno del comune, in particolar modo all'assessorato al turismo, di fare un'esperienza. Il risultato è stato scontrarsi contro un muro dove si è preferito magari mandarmi a fare il tirocinio all'ufficio turistico del momento, dove non è che è stato fatto chissà che. Questa è stata una forte delusione, quindi sento io in prima persona quello che magari provano altri giovani che vorrebbero rientrare, vorrebbero riportare le proprie capacità e invece non è possibile. Noi punteremo molto anche sugli stage formativi, quindi di inconvenzione con le università ad esempio, quindi ci potranno dare una mano per migliorare il paese, per fare le proposte e magari questo può essere d'aiuto ai giovani per sentirsi forti nel voler rientrare. Volevo domandarle, spesso si parla di arte, di cultura, di grandi opere, però poi sono parole che vanno al vento. Voi per questo indirizzo come siete messi? Lo dico a un giovane. Allora, noi sappiamo bene che Scalea, siccome il Movimento 5 Stelle punta tanto sull'aspetto turistico, non ci vogliamo fermare a quello che è stato il turismo fino ad oggi, cioè il mare. Ci sono tanti aspetti culturali che ci sono a Scalea, ma anche nei comuni limitrofi, quindi questo può voler dire anche spostarsi e dare la possibilità di visitare altre località. Noi possiamo utilizzare, utilizzeremo sicuramente i fondi europei per la valorizzazione del turismo e quindi anche della cultura. Noi abbiamo avuto anche degli stage formativi in questo senso, da parte del Movimento 5 Stelle proprio. Quindi ci troviamo preparati, siamo già pronti, siamo già formati. Quindi mi sta dicendo che voi state anche già lavorando nell'eventualità che andrete ad amministrare il Comune, che state avendo già contatti con i sindaci dei comuni limitrofi, più o meno. Allora, questo passo ancora non è nettamente cominciato, è un'idea che abbiamo di realizzare. È una cosa importante per noi creare rete, perché il Movimento parte proprio da una rete che interna sia il Movimento 5 Stelle. Però, visto e considerato che l'obiettivo è il turismo, riuscire a fare degli accordi anche con altri comuni può essere fonte di risorse per noi stessi. Un'ultima domanda. Voi avete la fiducia in voi stessi per quanto riguarda le elezioni, considerando con chi vi scontrerete? Assolutamente sì. Non ci siamo tirati indietro, non ci tireremo indietro, continueremo a lottare perché non è facile, perché effettivamente siamo i giovincelli della politica locale, ma non abbiamo paura di affrontarli. E l'abbiamo dimostrato con tutto quello che è successo fino alla presentazione delle liste. Voglio dire, siamo stati i primi a raccogliere le firme, i primi a consegnarla, i primi a diritto, anzi, la fortuna ci assiste anche, visto che nel sorteggio poi siamo usciti come lista numero uno. Quindi magari è anche buon segno questo. Io con questo suo sorriso le auguro in bocca al lupo e mi auguro di vederla al più presto per altri incontri. Grazie. Grazie mille.